Immersi nella realtà delle tante generazioni di persone che si danno da fare. Siamo stati a visitare dei giovani imprenditori, ora li visitiamo medi. Questa è la ditta Soldini, questo signore accanto a me si chiama Tiglio Soldini, è uno dei tanti che lavorano in questa... Che cosa vuol dire chiamarsi Soldini per voi? Perché io vi trovo sempre tutti a lavorare un sacco. Ma cosa vuol dire? Vuol dire lavoro, vuol dire tradizione, vuol dire specificatamente scarpe e con l'aggiunta dei nostri spazi anche abbigliamento. Ecco, io sono venuto perché nella tradizione del risparmio di Soldini che è sempre stata nell'intento di chi ha costruito queste calzature, vuoi per le quantità una volta, vuoi per il fatto che adesso c'è una produzione mirata a non sprecare niente. La ditta Soldini, e qui ho Monica che è un bel esempio, perché anche tu sei... come fai di cognome? Soldini? No, Zannerini. Però sei parente? Sì, nipote. Cioè, praticamente questa è una ditta internazionale a conduzione familiare. La signora accanto ad Attilio, la caponegozio, la Francesca è un'altra... Commessa. Commessa. E qui ci troviamo in uno dei tre punti vendita che avete. Qui siamo proprio di fronte alla fabbrica a Capolona. Voi avete altri due punti vendita? Sì, noi abbiamo due punti vendita. Uno ad Anghiari e si chiama Scisa che era il nostro vecchio... Era dove c'era la fabbrica una volta. Che disgraziatamente prese fuoco e ora c'è rimasto solo il punto vendita. Che praticamente c'ha la stessa roba di qui... Compreso l'abbigliamento. Compreso l'abbigliamento e è anche più grande, quindi... E poi avete un altro... E poi abbiamo un altro punto vendita nella provincia di Perugia e precisamente in località Pobandino nel comune di città della Pieve e quello è il più grande di tutti che è circa 2.000 metri. In ogni punto vendita avete la stessa roba, sia abbigliamento che calzature. In ogni punto vendita abbiamo la stessa roba. Allora io vi ho portato qui perché tra poco è Natale e la canzone dovrebbe essere Astro del Ciel, Pargo il Divin, fammi pagare poco il maglioncino. Io ho trovato questo... Beh l'ho preso per me. Quanti ne ho comprati, di dire la verità? Quattro. Quattro. Pensate, puro Cascimi il 100% a 39,9%. Allora a me mi ha colpito questa cosa e voglio che coloro che come me ovviamente non passano un periodo meraviglioso e possano risparmiare qualcosa, vengano. Che cosa avete in offerta sul Cascimi perché è una lana caldissima? Allora abbiamo quattro modelli da uomo nei vari colori parlando dell'uomo e poi parlando della signora, donna, abbiamo vari modelli sia in vari colori e poi non solo, abbiamo anche giacconi, subbotti sia da uomo che da donna e a parte in questo periodo qui comunque noi diciamo qualità e prezzo, i clienti si accontentano un po' tutto l'anno. Però fino a Natale siete aperti. Sì. 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 La voglia di lavorare di questa gente il che sta a significare che c'è un'Italia che ancora ha voglia di dimostrare che si può sfangare questo brutto momento e per tutti coloro che sono costretti a arrivare a fine mese con meno soldi di prima risparmiare fa sempre comodo. Ringrazio Attilio e tutti i suoi collaboratori e verremo magari dopo Natale quando c'è meno confusione a parlare più specificatamente di valigeria perché avete valigeria, abbigliamento da caccia, Stonehaven che è un… Stonehaven. Sì. Sì. Soldini Stonehaven che ora voi fate anche uno, vi ho visto sulla radio nazionale, vi sento. Siamo con la Mediaset e con la Rai su tutti e due. Ecco facciamo pubblicità secondo i periodi e cose. Quindi sono onorato di avermi anche su Cia Retondo TV, dopo questa ne dico più, a presto buon lavoro. Buon lavoro. Grazie.